ben trovati ben trovati buon pomeriggio l'ora solare è scattata su tv 2000 ben trovati oggi guardate passo ancora più veloce per arrivare qui a centro campo no centro studio perché abbiamo una puntata insomma lo vogliamo dire le nostre puntate cerchiamo di renderle sempre belle questo poi ce lo dite voi ce lo dite voi con la vostra presenza con la vostra attenzione e poi ci sono quelle giornate in cui mettiamo insieme tante storie tanti fatti insomma per cui oggi è una di quelle giornate in particolare perché perché apriamo con una straordinaria direttore e straordinaria donna che ci racconta di un'altra straordinaria donna io parto dalla prima lei è e sono molto molto orgogliosa che abbia accettato il nostro invito silvana giacobini una signora del giornalismo un una signora direttore so tutti noi sappiamo quello che diciamo quando incontriamo silvana giacobini giornalista e scrittrice e donna di grandi incontri al punto tale che ci sono stati a livello internazionale anche persone che hanno un po storto il naso hanno detto ma dai ma ti pare e invece sì perché noi oggi vogliamo parlare e ti ringraziamo tanto di aver accettato il nostro invito di jaclyn kennedy vogliamo parlare dei kennedy in questi giorni in questi giorni così importanti il 22 novembre e quello del 63 a dallas insomma lì rimane ferma la storia però abbiamo chiesto a te di raccontarci questa famiglia attraverso lei lei che tu hai conosciuto benissimo benissimo nei limiti in cui c'è un incontro però ravvicinato in cui ci si può guardare negli occhi in cui si può notare la cordialità o meno del il piacere o meno di incontrare quel giornalista e quindi è stato a new york e devo dire che sembra veramente anche a me un avvenimento che mi ha dato molto orgoglio di averlo avuto perché è un mito ormai giacchi giacchi o addirittura quando è diventata la signora onassis ma soprattutto jaclyn e giacchi la donna che batteva in celebrità e in simpatia il consorte che era il presidente degli stati uniti john fizeral kennedy diceva sono qui per accompagnare la signora kennedy cioè così si presentava infatti aveva conquistato nei suoi viaggi diplomatici accanto al marito un posto non solo di onore ma quasi di di spermazia su questo consorte del resto anche lui è entrato nel mito perché il primo presidente degli stati uniti così giovane e purtroppo è entrato nel mito anche per l'uccisione per il modo in cui è stato colpito è ucciso e il mistero che tuttora pensa dopo tantissimi anni è ancora intorno a questo assassino di di stato qualcuno ha detto pensa hanno insinuato che fosse i responsabili della cia aver organizzato addirittura l'attentato di dallas allora noi ci fermiamo solo un istante per questi 29 secondi questa questa sorta di di cartolinea che noi vogliamo spedire a tutti voi che racconta la bellezza lo stile poi tornerò su quella l'ha conosciuta bene jaclyn kennedy vedete una caratteristica di silvana giacobini è quella di essere sempre un passo indietro all'interlocutore che le incontra non sempre personaggi così incontravano volentieri la stampa è stato il caso invece per silvana giacobini ma questa era nella clip che il nostro matteo forino ha preparato jaclyn jackie quella donna e qui il mito e non c'è niente da fare silvana e per quante provino ad imitarla lei rimane un po la maniera di odrie e burn non imitabile cioè quelle persone che hanno messo così una firma ecco come abbiamo concluso la nostra piccola clip ed sono rimaste loro e basta sai lei ha introdotto qualcosa che aveva anche disturbato l'america perché aveva scelto lo stile francese perché lei era andata a parigi aveva visto come erano le donne europee eleganti e quindi questo fu causa di critiche come del resto anche quello che ha fatto alla casa bianca i rinnovamenti io ho visto personalmente alla casa bianca gli affreschi che lei aveva fatto fare sulla storia dell'america quindi un omaggio anche agli stati uniti però troppo intellettuali forse troppo ricercati per uno stile molto più democratico era una donna colta era una donna profondamente sicuramente attenta sì sì e lo stile che dicevi tu è inimitabile perché si tutti ricordano la pettinatura un po gonfia e si direbbe un taglio bobo rigonfio come si direbbe oggi ma anche la toc c'è quel piccolo cappellino poggiato sui capelli e vedi stiamo vedendo un'immagine per esempio questa la spilla e la collana inserita dentro la scollatura il taglio all'americana le braccia scoperte e lei aveva la figura anche che lo permetteva alta sottile un volto molto fotogenico nonostante piccoli difetti che poi sono diventati il suo pregio gli occhi un po distante il naso molto piccolo i zigomi alti e sai tutto messo insieme con la sua cultura e il suo gusto anche un po della sfida perché secondo anche amici lei era anticonvenzionale appariva timida però le sue scelte e poi le perseguiva con estrema determinazione quindi una timida forse verso gli altri ma in pratica una donna di grande determinazione grande spessore determinazione racconteremo tra poco l'incontro tra silvana giacobini e jackie kennedy e quando ho detto non tutti hanno mai hanno creduto a questo incontro perché chiaramente a molti come dire ha dato un po fastidio questa cosa che arrivasse questa super giornalista dall'italia a poter incontrare una donna che con la stampa per quanto bravissima a gestire insomma era la first lady d'america ma non ebbe mai un rapporto di grande amore sai in questo mi ricorda sofia loren che ha avuto grandi problemi con la stampa quando si è molto noti molto famosi e lei perseguitata anche da rongalella che era un fotografo che non l'abbandonava ogni giorno uno stalker vero e proprio che fu condannato poi a rimanere a 15 metri di distanza fissi non avvicinarsi mai oltre non più di tanto non più di tanto e non è che possano avere anche una grande simpatia per la stampa per i giornalisti che impiccioni che poi in realtà i giornalisti cercano di sapere la verità e di riportarla quindi evitiamo il pelago delle fake news delle invenzioni di tutto quello che può riguardare un cattivo giornalismo no no con te parliamo solo di buon giornalismo non potrebbe essere che così abbiamo tempo un minuto solo per far vedere queste queste immagini l'incontro intanto dovremmo avere una sua foto da bambina dove è praticamente identica insomma è con una una bimba che era quella che poi eccola qua lei sarebbe sarebbe diventata e poi il giorno del matrimonio insomma all'incontro con John Fitzgerald Kennedy che era giornalista poi lei era una giornalista quindi l'ha incontrato proprio facendo quel lavoro e guardate questa fotografia che meraviglia questo è il giorno delle nozze loro si sposano nel 53 però quindi lei era molto giovane lei è nata nel 1929 e il marito aveva parecchi anni più di lei pur non dimostrandoli perché sembrava un giovanotto sempre anche fino all'ultimo momento allora Jackie Kennedy che amò quest'uomo l'uomo senz'altro l'uomo perdonandogli tutto l'uomo fino a quella fine a quel giorno terribile a quel giorno al quale ogni ribadiamo ogni 22 novembre si finisce per pensare ma per parlare di più di quel giorno per scoprire anche di più dell'intervista che Silvana Giacobini fece a Jackie Kennedy per parlare anche del figlio John John noi vi aspettiamo tra un istante ci fermiamo solo per un attimo finestra aperta anche se piove arriviamo noi siamo loro assolanti a tra poco Silvana Giacobini giornalista scrittrice il direttore per me è una persona adorabile una cara amica e una giornalista a 360 gradi che ha avuto tra i tantissimi incontri anche la possibilità di conoscere Jacqueline Kennedy come come andò quella giornata cosa che donna ti sei trovata davanti se permetti ti faccio il racconto di ciò che è avvenuto poco prima di incontrare Jackie Kennedy allora ero alla Madison a New York e avevo avuto questa occasione straordinaria di poter incontrare Jackie Kennedy e la stavo aspettando sulla soglia della boutique di Valentino grande amico di Jackie che l'ha vestita ed è rimasto amico fino all'ultimo e all'improvviso la bodyguard che stava vicino a me mi dice in uno stretto slang di buttarmi per terra io penso di non aver capito perché mi devo buttarmi per terra perché allora mi acchiappa alla schiena e mi butta veramente io scendo e alzo il collo più possibile lui mi trattiene mi dice che c'era un bad guy un cattivo ragazzo dall'altra parte del marciapiede della strada e io guardo vedo in quel momento un giovane con una un sacchetto tipo quello del pane nostro io pensavo io avesse dentro un po di pane qualche cosa camminare io vedo tutto il rallentatore però lui estrae una pistola dal sacchetto e in quel momento pensa e penso alla mia famiglia a mia figlia che era piccola dico perché devo morire proprio a New York ma l'istinto del giornalista chiaramente mi ha percorso come un brivido dico arriva Jackie Kennedy dice quello con la pistola chissà che succede non so dentro di me avviene un un uragano di emozioni arriva la polizia scendono dei poliziotti con dei manganelli che non ho mai visto io così lunghi dei bastoni bianchi mi è rimasto questo nella mente non lo so se ancora li usano o che lo so tirano fuori comunque questi manganelli si avvicinano all'uomo lo acchiappano lo disarmano e lo ficcano e lo buttano dentro l'auto della polizia e sgommano una giornata tranquilla tranquilla dopo poco arriva Jackie Kennedy ma poco quindi si può dire che l'attentato che non ha sconvolto il mondo perché appunto per fortuna non è avvenuto pensa tu che cosa sarebbe stato un rebound mondiale e ho avuto modo quindi di vedere da vicino quella che per me era un'icona dell'eleganza e tale è rimasta anche a una visione così ravvicinata aveva non l'ho più dimenticato un impermeabile lungo quasi tre quarti maschile un trench quindi pantaloni maschili un po larghi come quelli che vanno di moda anche adesso mocassini proprio maschili ma sai con la nappa e un maglioncino con il collo alto e soprattutto quello mi ha colpito non era truccata aveva una sottile ragnatela di rughe che me la portava vicina proprio umanamente e l'attaccatura dei capelli vuoi che ti dico anche questo assolutamente perché tutto sommato rientra anche nel ritratto di una donna famosa in tutto il mondo per la sua immagine allora l'attaccatura era molto crespa con qualche filo bianco quindi dimostrava che anche quella coiffure perfetta che lei ha sempre usato era frutto anche di un grande lavoro che ringrazio anche io da parte mia di parrucchieri che esistono ma meno male ringraziamo tutti per quello però ecco tu l'hai vista nella sua forma più naturale e quindi questo è stato anche un regalo che lei ha fatto a me perché sapeva che ero giornalista e la conversazione se così si può chiamare con domande e risposte ha riguardato molto la sua attività del del tempo perché lei dopo essere stata first lady prima giornalista giovanissima ha incontrato quindi kennedy poi first lady donna famosissima in tutto il mondo poi la moglie chiacchieratissima del magnate greco onassis molto più vecchio di lei quindi un matrimonio nato sotto un contratto in cui si definivano persino i giorni in cui dovevano stare insieme non dico di più ma comunque i weekend eccetera e naturalmente un matrimonio di convenienza diciamolo pure per lui e per lei e poi invece donna di lettere giornalista ancora ma soprattutto editrice perché dalla viking e lei si era spostata aveva litigato perché gli avevano fatto un brutto scherzo ne è uscita molto arrabbiata ed è entrata la double day dove ha continuato a scegliere gli autori che più le interessavano le opere letterarie che più le piacevano quindi un grande lavoro tant'è che truman capotti si dice capotti io dico capote ma insomma per capirci disse che lei aveva letto più libri di quanti del suo entourage che lui conoscesse appunto perché così fa un capo legge più di quelli con i quali lavora i quali suggerisce che cosa che cosa scegliere in una casa editrice piuttosto che in un qualsiasi altro lavoro insomma più preparati ancora delle persone con le quali si lavora un film molto bello jackie interpretato da natalie portman qui la passione di jackie kennedy per i cavalli che rimase tutta la vita racconta di come nel momento della in cui le viene ucciso tra le braccia il marito lei riesca ad avere la forza di decidere tutto anche di decidere quel lungo corteo che lei farà a piedi il luogo esatto del cimitero di arlington dove poi lei oggi riposa accanto al marito e ai due figli e ai due figli scomparsi non le john john ma i due piccoli quelli che che ha perso morirono morirono insomma mentre lei era ancora first lady esatto mentre era ancora first lady ecco questa fotografia che che rimane con vedete con john kennedy appoggiato al suo fianco non ancora senza vita e quel gesto da gatto quel gesto spontaneo silvana di andare a fermare quello che non si poteva fermare più ecco questa donna è stato un esempio di grande dignità per il mondo intero perché ha saputo gestire con con dignità e amore la fine sono d'accordo lei amava veramente il marito e il periodo di permanenza la che fu breve alla casa bianca è stato definito dagli americani camelot cioè come quello di king arthur e del re arthur e noi sappiamo che kennedy john era un uomo che piaceva molto alle donne e le donne piacevano moltissimo a lui troppo quindi matrimonio che ha richiesto grande disciplina forza anche di sostegno io penso che sì siano state scelte politiche perché è vero però nello stesso tempo nascono anche io credo e voglio crederlo soprattutto dal cuore da un sentimento vero e lei ha l'amato tantissimo e sono state le ultime parole che forse lui ha sentito perché ha detto jack ti amo e queste sue poche ore prima nel suo elegantissimo tagliere che farà storia chanel che si macchierà e con il quale lei arriverà e scenderà dall'aereo portando il sangue di suo marito addosso l'ultima fotografia che vogliamo far vedere è quella di john john del figlio amato adorato che nella sua terribile sorte per fortuna non ha fatto vedere tutto questo a sua madre diciamo lei è riuscita ad andar via prima almeno questo grande dolore è stato risparmiato e parliamo della scomparsa in un crash aereo insieme alla 7 che era sua moglie e alla sorella della moglie quindi anche la cognata ecco questa è una foto che mi ritrae accanto a lui è stato uno degli uomini definito anche da people il più sexy del mondo e in realtà era un uomo bellissimo straordinario altissimo piacevole un sorriso fantastico lui era lì perché eravamo pensa mi venne a chiamare io era un piano diverso alla scala la moglie che hanno sempre descritto un po come austera un po non simpatico invece una donna molto carina deliziosa mi ha chiamato toccandomi lievemente sulla spalla dicendomi che il marito mi aspettava ma non si poteva muovere perché aveva tutto un nugolo di bodyguard e poi abbiamo parlato a lungo lui mi ha raccontato mi ha ridetto la battuta che ha sempre detto che il cane era più famoso di lui perché lo fotografavano sempre con questo cane al parco e comunque che aveva grandi non la definita ambizioni grandi visioni per fare molto bene il suo lavoro di editore anche lui come nel campo simile a quello della madre e poi dopo pochissimo lui ebbe questo incidente terribile che rientra nella maledizione dei kennedy sì in questa in questa non si può definire diversamente non si può definire diversamente sono molti molti casi nella famiglia kennedy di storie tragiche impressionanti andate a finire nel peggiore dei modi noi volevamo questo a silvana giacobini un racconto alla sua maniera sapete poi magari le persone sono anche un po schive sono anche un po strane nei propri atteggiamenti quello che vi posso garantire ma non ve lo devo garantire io lo garantiscono gli anni di lavoro di silvana giacobini e che con silvana sarebbe caloroso anche un iceberg e quindi questa è silvana giacobini eccolo qua il cane di chi parlava giorgione grazie direttore grazie a te grazie a tutti voi grazie davvero grazie tesoro grazie grazie a tutti